E allora io adesso vi presento il prossimo ospite della nostra astronave per questa sera, regista, attore, bravo, pluripremiato, il suo ultimo lavoro ha veramente ricevuto tantissimi premi, 8 euro, è sempre tematica sociale molto scottante e nel lavoro del quale già abbiamo il trailer e che devo dirvi sta iniziando a prendere forma. Ci godiamo 30 secondi di trailer e subito dopo parliamo con l'ospite. Mauro mandiamo il trailer. Com'è andata con la banca? Ciao Marco, ha telefonato tua moglie e la banca. La banca. Sono l'uomo più ricercato in questo periodo, la banca. Rispondi. Sto stronzo non risponde. Vai, vostri amici? Nemmeno questo risponde. Non abbiamo amici, Tamara, non abbiamo amici, abbiamo a metodo di bisogno, gli amici si spariscono. Bevi un caffè? No, grazie. Allora, mi dai una mano? Ah sì, non è il momento questo. L'ultimo lavoro di Tony Morgan. Buonasera Tony, benvenuto a bordo dell'astronave, è una grande gioia tornare ad ospitarti. Il piacere è sempre mio, sai, ogni anno ci vengo veramente con gioia. Mi hai portato fortuna in 8 euro. Sono contento, sono contento. Premio speciale del Presidente della Repubblica Italiana, 8 euro, non dimentichiamolo. L'ultimo, posso dire, due giorni fa mi è stato assegnato il premio popolarità per il film 8 euro a Città di Sarno, a Salerno. Il film straordinario perché raccontava con la filosofia di Tony e con questa trama narrativa molto interessante e come purtroppo è la vita di un uomo che deve vivere soltanto con 8 euro al giorno. Ma diciamo che ci ha preso gusto perché il tema sociale ti ha dato tanta fortuna, tanto successo e adesso oltre il tunnel il coraggio di non farlo. Sì, perché ho visto attraverso la televisione, ci sono molti imprenditori che purtroppo, commercianti, che fanno dei gesti consulti perché chiudono e si uccidono. Ecco, questo è un film sull'amicizia che non c'è perché quando stiamo bene, tutti ci amiamo, ci vogliamo bene. Questo poverazzo a un certo punto va a cercare i suoi amici che prima erano fratelli e ha le porte chiuse. Ha le porte chiuse e tutti dicono, insomma, perché non me l'hai detto prima e scoperti che non ha più amici. E allora il coraggio di non farlo. Però in questo film, caro Tiduggero, voglio dare un segnale positivo perché alla fine di questo film c'è questo abbraccio tra lui e che la figlia. Beh, che questo potrebbe essere un deterrente per coloro che magari in quel momento, presi dallo sconforto, invece guardando quella scena, e posso dirti una cosa, tre mesi fa, no scusami, cinque giorni fa, ha treviso un poveraccio, un commecciante, questo me l'ha detto con la produzione a Torino, un commecciante che purtroppo aveva un problema serio e si stava veramente a fare un gesto in consulto, ha visto il trailer e quell'abbraccio con la figlia... L'ha salvato. Non lo so perché. Ma che meraviglia, Toni, questa è una cosa bellissima. Allora, il trailer l'abbiamo visto, diciamo che vi state preparando ai casting. Sì, allora... Saranno in giro? C'è sicuramente Ortigia? Ortigia, giriamo a Ortigia, a Favignana e a Tormina. I cast faranno molto attraverso la stampa, la televisione, su Facebook andate, voglio dire, sulla mia pagina lì trovate tutto, voglio dire, quando ci saranno i cast. Vedo io darò molta possibilità a tanti giovani, oltre ci saranno le partecipazioni straordinarie, e devo dare in anteprima, ci sarà una partecipazione straordinaria di Ruggero che farà uno dei commercianti, farà uno di quegli camici infame che... Quindi mi stai dando dell'infame, Toni. No, l'infame, nel film, voglio dire. Mi stai dando dell'infame. Però è un personaggio, lui è perfetto, proprio il furbetto del quartierino. Grazie. Mentre lui, esempio, Claudio, sarà... Salutiamo Claudio, eh! Claudio, anche lui fa parte di questa famiglia. Che lui è Claudio Tropea, la rivelazione di Io canto di Canale 5. Io ce l'ho preso perché c'è una scena bellissima dove c'è una scena molto tenera. Sì, allora, ringrazio intanto il registro Tony Morgan di Avemmi, quindi fatto partecipare a questo casting. Mi ha dato una parte molto che l'ho apprezzata molto. Infatti io faccio quindi... C'è una grande villa in cui quindi l'imprenditore che purtroppo cerca soldi va in questa grande villa dei suoi amici in cui vengo invitato proprio come l'ospite a cantare. Rappresenta infatti il mio personaggio proprio perché sono stato io canto. In quel caso allora succederà che poi io mi innamorerò di una ragazza... Stai dicendo tutto il film, poi non se lo vede nessuno, ve lo voglio dire, stai dicendo tutto il film. E da lì poi nascerà una storia. E si intreccia poi tutto. E si intreccia. E sarà anche lui con noi, il grande Tony Morgan, va bene lo stesso. Non importa. Tony, bocca al lupo per tutto davvero. E voi seguite Tony anche sulla sua pagina Facebook perché sarà una bella occasione per i giovani attori, per le giovani attrici per mettersi in gioco e soprattutto per partecipare ad un'altra produzione che sarà un grande successo per Tony Morgan. Ma io, scusa, se chiudo soltanto 30 secondi e dico, in questo film, essendo un siciliano doc, voglio dare, oltre a partecipazione straordinaria, a dei ragazzi, a degli attori, a delle attrici che sono brave, siciliane, va bene, voglio dare una possibilità a questi giovani. Bravo Tony, che viva per sorga!